Ciao, benvenuto e benvenuto nel mio canale, io sono Paola e in questo video ti spiegherò come ottimizzare i nostri soldi online e anche i buoni. Il primo riguarda questa bellissima promozione che ogni 10 euro di spesa in gastronomia ci dà diritto a poter partecipare all'estrazione di un buono da 30 euro per quello che riguarda i vini. Sempre tutto online, la seconda è per ottimizzare i buoni che abbiamo ricevuto, se li hai ricevuti anche tu per la scuola, ma online abbiamo questo bellissimo buono da 7 euro su quello che riguarda i prodotti per la pulizia o i prodotti per i nostri amici animali. Ti basterà semplicemente andare sul sito di Essaylung online, andare nella pagina dedicata nell'home page di questo buono e potrai avere un buono sconto diretto da 7 euro su una spesa almeno di 20 euro per quello che riguarda i nostri amici animali o quello che riguarda la detergenza. Ci sono due ben categorie distinte. L'ultimo riguarda questa fantastica promozione che ci consente di provare a vincere un buono da 50 euro semplicemente comprando i prodotti della regina e andando sulla promozione della regina inserendo i dati del nostro scontrino. L'ultima cosa di cui ti voglio parlare è questo sconto diretto online o sull'app di Essaylunga del 50% sul secondo pezzo dei prodotti a marchio Essaylunga in modo da ottimizzare ancora di più i nostri risparmi. Questa promozione è valida dal 16 al 25. Infine ti ricordo che se questo video ti è piaciuto di lasciare un bel like, di iscriverti, di commentare e di condividere così aiutiamo più persone possibili a conoscere tutte le varie possibilità di risparmio che sia un buono sconto, un buono spesa, un coupon o qualsiasi cosa sia anche un concorso e aiuti il mio canale a crescere. Per ora ti ringrazio, ti mando un bacione grandissimo e ti aspetto ai prossimi video. Se ti interessa questa tipologia di video nel mio canale ce ne sono tanti 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 altri su varie tipologie. Se ti interessa qualcosa in particolare non ti basterà che fare altro che scriverlo nei commenti. Un bacione e alla prossima. Ciao!